Health Biosafety Train, questo è un progetto di biocontenimento, perché è così importante? Ma è un progetto che è iniziato già da parecchio tempo, l'ho fatto presente oggi durante i lavori della nostra riunione, è iniziato ancora prima del 2020, tant'è vero che all'inizio della pandemia noi avevamo già pronto tutto il progetto di formazione delle persone sanitarie e non che è stato dato alle amministrazioni che ce l'hanno richiesto. È importante perché quella che è stata la pandemia Covid ha fatto scoprire un vaso di Pandora, cioè alla fine noi dovremmo essere pronti a avere anche altre epidemie, altre pandemie perché ormai questo è stato un test, non sarà più una cosa così isolata o anche altri eventi possono capitare. Quindi in un mondo in cui la comunicazione è velocissima, cammina alla velocità della luce possiamo dire, in cui le comunicazioni sono rapide, quando c'è un problema di salute e non solo di salute ma che coinvolge la salute delle persone, a questo punto noi dovremmo essere pronti a tutto e quindi già preparati. La giornata di oggi non era qualcosa di nuovo, è stato fatto il punto, infatti era un tavolo tecnico per dire che cosa abbiamo fatto. Io ho recitato, ho fatto presente che 9.000 persone, 9.000 sanitari sono stati formati più 250 forze dell'ordine solamente qui nella regione Sicilia. Io credo che noi dobbiamo continuare a lavorare insieme, insieme alle altre istituzioni, sia quelle che erogano prestazioni sanitarie. La nostra è una presenza principalmente sotto l'aspetto formativo ma ancora di più nel mondo della ricerca. Erano presenti anche aziende farmaceutiche, c'era la Pfizer ma accanto a questo c'era anche chi rappresentava il sacco di Milano e quindi significa cominciare a pensare in ricerca. La cosa più bella è che posso dire che questi tavoli di lavoro servono per guardare il passato ma con la prospettiva di un futuro e il futuro è oggi e domani. Perché è così importante per la Sicilia questo progetto? È importante la Sicilia per un motivo, perché la Sicilia ha lavorato in silenzio, non ci sono stati mezzi busti televisivi a raccontare ciò che si è fatto. Noi siamo abituati alle varie grandi tv dove tutti raccontano ciò che fanno. Noi abbiamo lavorato in silenzio e quando io dico noi anche l'istituzione, l'assessorata alla salute che era qua presente con le sue figure e l'ordine mece in altre istituzioni, le ASP e abbiamo prodotto risultati concreti. Questa è la cosa più bella, cioè non abbiamo detto faremo, abbiamo fatto. È stato oggi fatto il punto su ciò che è stato fatto, su ciò che oggi faremo e quello che faremo in questi giorni anche perché ho accennato l'interesse di alcuni paesi esteri, tanto più i paesi del Nord Africa che desiderano poter lavorare perché la distanza di un braccio di mare è veramente oggi un braccio piccolo, un braccio corto. Sappiamo quanti dall'Africa vengono qui da noi e con una notte di barca arrivano in condizioni disastrose ma arrivano e quindi da questo punto di vista facciamo capire che le distanze sono ormai ridotte e che circolano, circolano le persone ma circolano anche le malattie. Oggi si parla di formazione e di biocontenimento, quanto è importante la formazione nei casi di emergenza? La formazione nei casi di emergenza penso che sia una delle componenti più importanti, cioè la gestione delle emergenze non si improvvisa, ovviamente richiede competenze, richiede procedure, richiede organizzazione e richiede soprattutto una capacità organizzativa e di governo delle emergenze che solamente con un'attività di formazione continua si può sviluppare.